Questa mancia sesto sconosciuto! Vediamo chi entra! Questo va a fare sciogliere? Agile, sereno, uoio! Un pittore giovane e scorsino, un sorriso! Mamma mia, ma so io! Metà io e metà... Scusa, metà io e metà... Scusa, metà io e metà... Metà? E metà chi è l'altro? Sposato. Chi è? Parla parla, dom lo dici dopo? Sì? È carino, però guarda, perché sul mezzo io... Pure questo lo mettiamo su Instagram, ma in questo momento anche questo su Instagram. Mezzo io e mezzo poi mi spiega chi è, perché comunque è bello, mi piace, molto bello. Marcello Mastroiani. Marcello Mastroiani? Wow, uguale! Ah, paparazzi, mio vecchio! Bravo, mi piace molto, molto bello. È molto bello, sono sorrisi. Bello, quanti anni ha? Ah, tutto è bello, bravo, mi piace. E' un po' di togliere il berretto. A cuffia? Bene. A cuffia? Ok. Puoi fare un giro su te stesso, per favore? Ah, stai pericolando. Ah, vedi? Che dite? Puoi farci un ballettino? Occhio all'a quadro, eh, però, perché l'altro... Ma, signor regista, abbiamo una musichetta adatta? Sicuramente lei ne avrà tante, no? Non sapevo. È giusto, puoi verlo, vedi? È abbastanza più manile come... Eh, va bene. Ma diamo vedere un ballerino... Si fa vedere le mani? Così snodato. Di mani, si è sposato... Eh, se ne è sposato questo? Non siete fissati, però, molto maligno. Faccio vedere gli squat. Basta, non ci pensate più. Qua. Ok. Eh, io direi 32. Quanto? Il primo impatto ci viene 32. Quindi segniamo 32? Cioè, è istinto 32. Dai, 32? 32. Dai, 32. Dai. È rimasto solo zoom, però. Sì. Ah, io l'ho già, io l'ho già. Ah, io l'ho già. Vediamo quanto avete, eh? Allora, avete 70.500 euro. C'è lo zoom, attenzione, attenzione. Pensare se possa avere 32 anni ho cambiato idea. Vai. Sì. Ti avvicinerai con... Attenzione, vai. No, no, la pedana. La pedana, tranquilla, tu rimani... Non lo dammi. Fai tutte le vostre richieste. Puoi ritogliarti il cappello, per favore? un po' di 32 girati ancora per favore piano piano lentamente siamo sui 38 di profilo di più facci vedere un attimo il collo vedi come è praticamente si sta proprio rendendo disponibile 38 o 40 a riflettere lo squat ce l'ha già fatto ancora pochi secondi riflettere pochi secondi 5 quanto? 39 abbiamo fatto una via di mezzo perché? di più? di meno? cosa dici? di più secondo te 32 proprio non gliene avrei dati allora 39 Klaus hai 39 anni? sì o no? domandiamolo così lo scopriamo subito no non ha 39 anni ora devo capire di quanto guardate quanto perdete però secondo me 32 no no ci avrà di più sicuro adesso vediamo di quanto vediamo vediamo perché Valentina poi ha detto alziamo per un anno per un anno aspetta che quanti anni hai? 38 38 38 38 se mantenevi 38 ci state veramente Valentina poi l'ultima avete cambiato Silvia anche te sei andata dietro però allora mi piace molto questo quadro mi piace ma tu sei un vittore sì sono un vittore insegno anche l'accademia di belle arte quindi da sempre faccio il vittore bello molto bello ti ringrazio grazie me lo posso tenere? sì sì che bello allora lo do me lo lasci di fuori se non mi rimango con il quadro grazie comunque penso che l'avete apprezzato grazie a Klaus e noi andiamo in finale con 65.500 euro